Continua anche nel weekend del 25 aprile l'infinita sfida tra Zalfa e Aeromobile Desiree Fiori e il team Colpac. Dopo una settimana dominata dalla formazione trevigiana, il tempo delle rivincite. Il team Colpac infatti conquista un prestigioso secondo posto con Simone Consonni nel Gran Premio della Liberazione a Roma, vinto da Lucas Gadai del Unieuro Villar Trevigiani. In provincia di Milano a Nevriano invece registriamo il successo di Davide Martinelli e il ritorno alle vittorie dell'atleta bresciano che però avremo preferito vedere lottare sulle strade della capitale nel Gran Premio della Liberazione con i migliori atleti a livello internazionale. Sempre sul fronte Colpac torna il sorriso sul volto dell'ex tricolore juniores Umberto Orzini che dopo due stagioni opache con la maglia del team Mastromarco torna e ritrova il successo a vittorio Veneto. La Zalfa risponde invece a Pessina Cremonese con la vittoria del gallese Daniel Pearson che conferma quanto fatto di vedere di buono lo scorso anno con la maglia del team Zappis. Nelle gare toscane invece registriamo il successo dell'australiano Jake Bekenstein a San Leonino e Michele Viola a chiasa superiore nella classifica nazionale di ciclismo Info balza alla comando. Simone Consonni ormai non più semplice o velocista ma un corridore completo in grado di esprimersi al meglio sui percorsi vallonati che sta mostrando una grande maturità. Tra le squadre invece stabile alla comando la Zalfa Aeromobile Desiree Fiorra seconda posizione per il team Colpac.